Si, mi ha invitata quella? Si, e chi ha detto? Va stracciata! E chi ha detto, chi ha detto? Ha detto che sei un bordo! Quello doveva dire, quello devono pensare le donne! Che è un bordo! Si perché vedi quando uno dice, quello è un po' cocco eh? Poi ci ripensano, ci ripensano e dicono Porca va, vediamo questo porco di... Eh eh eh! Quando sono a bella notte la rimo io e zacca! Ma che zacca, cavoli! Voi dovete stare attento alla vostra età! Ma che è la età! Guarda che sono stato bersaglieri, io bersaglieri a vent'anni bersaglieri utile Ma ti faccio vedere come faccio riscare, va! Accompagniamo l'ascensore, va! Non l'ho detto che siete debole! Ma chi ti ha detto che sono debole? Anzi, più divento vecchio e più divento robusto! Ma che è robusto! Si, si, si! Ti ricordo, intanto, quando me lo piediamo in mano e dovevo piegarmi, cioè, vuole due mani con la forma...